musica 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 allora questo è My Little Bloopers allora nella scena in cui Rarity si prepara per la missione mentre si guarda allo specchio le ciche del cappello non si riflettono musica 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 Le ali di Rainbow Dash mancano quando lei e le sue amiche spingono Farttershype. Tra l'altro notare la mancanza di Pinkie Pie, dove è finita? Durante la scena in cui le main six si mettono più attenti davanti alla biblioteca di Twilight, anzi, alla biblioteca faccia dorata, mancano le ciglia superiori di Twilight, non che le vitacce di Applejack. Ah, e non sarà l'unica volta in cui le vitacce appariranno e scompariranno.